Sai dire esattamente cos'è la simonia? Di Roberto De Mattei La conferenza episcopale tedesca è l'azienda più ricca e privilegiata di tutta la Germania. Questa ricchezza deriva dalla Kirchensteuer, una tassa che lo Stato devolve alla Chiesa, trattenendo dal reddito dei cattolici tedeschi una cifra che ammonta all'8-9% del loro carico fiscale complessivo. Il prelipo fiscale però è obbligatorio, a differenza di altri paesi, dove le Chiese sono finanziate dalla generosità dei fedeli che scelgono liberamente di versare ad esse una parte del loro reddito. In Germania, chi vuole essere esentato dalla Kirchensteuer deve firmare una dichiarazione di abbandono della Chiesa, Kirchenhaustritt, che, come conseguenza, lo priva dei sacramenti. Il 20 settembre 2012, i vescovi tedeschi hanno decretato che quanti hanno chiesto di non essere più registrati per evitare di pagare le tasse ecclesiastiche non potranno più confessarsi, fare la comunione o la cresima e, al momento della morte, non potranno ricevere un funerale cattolico, non potranno nemmeno fare volontariato in un'associazione cattolica né tantomeno lavorare in un'istituzione della Chiesa, come una scuola o un ospedale. In un'intervista sulla Schwabische Zeitung del 17 luglio 2016, l'arcivescovo Georg Ganschwein ha denunciato in questi termini tale clamorosa contraddizione. Come reagisce la Chiesa cattolica in Germania con chi non paga la tassa per la Chiesa? Con l'automatica esclusione dalla comunità ecclesiale, il che significa scomunica, ciò è eccessivo, incomprensibile. Si possono mettere in dubbio i dogmi e nessuno viene cacciato fuori. Forse il non pagamento della Kirkenstoyer è un'infrazione più grave che non le trasgressioni contro le verità di fede. L'impressione è che finché c'è in gioco la fede non sia così tragico, quando però entra in gioco il denaro allora non si scherza più. Se lo slogan dei coloni americani nel XVIII secolo era No taxation without representation, lo slogan dei vescovi tedeschi oggi è No sacraments without taxation. Se paghi ricevi i sacramenti e se non paghi ne sei privato. La ricchezza della Chiesa tedesca è fondata in una parola sulla simonia. La simonia è un peccato che ha accompagnato la storia della Chiesa nel corso dei secoli, associandosi spesso al cosiddetto nicolaismo, il concubinato dei preti. I primi sinodi di San Gregorio VII, 1073-1085, il grande papa riformatore del Medioevo, furono proprio dedicati alla lotta contro i vescovi tedeschi simoniaci trasgressori del celibato ecclesiastico. Una piaga molto più grave della vendita delle indulgenze che offrì il pretesto alla rivoluzione di Lutero. Il termine simonia deriva da Simon Mago, del quale si legge che offrì denaro agli apostoli, Atti 8-18, per acquistare un potere spirituale. Santo Maso d'Aquino, che dedica un'intera questione della summa teologica alla simonia, spiega che i simoniaci sono sia quelli che comprano, sia quelli che vendono le cose spirituali. Quelli che vendono le cose spirituali assomigliano a Simon Mago nell'intenzione, mentre quelli che le comprano gli assomigliano nelle azioni. Secondo Santo Maso, ricevere il denaro per la grazia spirituale dei sacramenti è un peccato di simonia che non può essere giustificato da alcuna consuetudine, poiché la consuetudine non può mai pregiudicare nella legge naturale o divina. Se quindi per consuetudine si esigesse qualche cosa come compenso di un bene spirituale, con l'intenzione di comperare o di vendere, si commetterebbe simonia, specialmente poi se lo si esigesse contro la volontà del contribuente. Essendo la Kirkenstoyer estorta contro la volontà del contribuente, la dichiarazione di uscita dalla Chiesa tedesca, Kirkenaustritt, sottoscritta da chi vuole evitare il pagamento, è priva di valore di fronte alla Chiesa. Il Pontificio Consiglio per i test legislativi della Santa Sede, in un documento del 13 marzo 2006, ha spiegato che l'abbandono della Chiesa Cattolica, perché possa essere validamente configurato come un vero actus formalis defectionis ab ecclesia, deve concretizzarsi nei seguenti elementi. a. Decisione interna di uscire dalla Chiesa Cattolica, b. L'attuazione e manifestazione esterna di questa decisione, c. Recezione diretta da parte dell'autorità ecclesiastica competente di tale decisione. Ogni atto che non nasca da una motivazione interna ma sia obbligato non può essere considerato come una libera decisione interna di uscire dalla Chiesa Cattolica ed è invalido. Inoltre il parroco dovrebbe constatare se c'è veramente la volontà di abbandonare la Chiesa, il che mai avviene in Germania. Il cattolico tedesco che firma la Kirchensnaustritt non deve dunque temere di essere scismatico se non ha la reale intenzione di abbandonare la Chiesa, ma vuole solo separarsi dal perverso sistema finanziario che lo lega alla conferenza episcopale. Molti cattolici tedeschi criticano la Kircheneuster ma affermano di non poter fare a meno di pagarla per non essere privati di sacramenti. Ma sarà veramente impossibile Germania e fuori di essa trovare sacerdoti e vescovi disposti ad amministrare i sacramenti agli obiettori di coscienza della Kircheneuster? Noi lo crediamo anche perché nulla è impossibile a chi cerca prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Matteo 6,33 Ciò che io oggi temo di più sono i cattolici rassegnati e rinunciatari. Chi sono i cattolici rinunciatari? Quelli che sono convinti che c'è una sproporzione di forze tra noi e i nostri avversari il che è vero e che non possiamo fare altro che accettare la situazione de facto il che non è vero. I cattolici rinunciatari criticano in privato la Kircheneuster ma pensano che sia inutile criticarla pubblicamente perché tanto nulla cambierà. L'Europa secolarizzata ha bisogno di eroismo non di rassegnazione.